Ti chiedevo prima, l'idropulsore, il bicarbonato, non puoi farlo te con l'orolo? No, perché nell'idropulsore non ci puoi mettere bicarbonato dentro e poi comunque come lo metti, quello si scioglie. Tu devi mettere, questi qua sono invece degli strumenti che sparano il bicarbonato, appena preso da una sacca di bicarbonato e te lo spara, è diverso questo attrezzo. L'idropulsore non ne abbiamo mai parlato, non serve. Dopo prendo la jana e gioverla in pagina. No, ma lo sa già, glielo dico sempre. Voglio il caro. Vendigli la jana. Tu dici lì il getto della... No, perché quello è un getto che comunque ha lo 0 a 14 micron, sono granuli iper, iper, iper micrometrici, sono iper piccoli. E non voglia la luce intensa? No, sono delle polveri apposite queste per la protesi. Sono delle protesi, delle polveri fate apposta per le protesi.